A tanti temi di politica interna e internazionale, le elezioni europee si avvicinano, 70 giorni più o meno, ci sono i soliti pasticci per le liste, tante polemiche internazionali che coinvolgono anche il nostro Paese. Ieri il Presidente del Consiglio, come aveva mai dire lei, Giorgia Meloni, è stata molto esplicita in Libano, ha detto che il quadro internazionale richiede prontezza e determinazione, perché le minacce che ci arrivano sono quelle che sono. Parleremo di tutto questo con i nostri ospiti di oggi. Bentornato a Fabio Martini della Stampa. Buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno ad Alessandro Barbano, il direttore del Riformista. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno. Ecco Francesco Giubilei di Nazione Futura. Ciao Francesco e poi c'è Paola Tommasi. Buongiorno anche a te Paola. Io partirei, i giornali oggi hanno aperture molto diverse, ma partirei da quella che scelgono in parecchi ancora il caso Salis. Negati i domiciliari, ieri abbiamo rivisto in ceppi la nostra connazionale, come purtroppo temevamo e come i fatti ci facevano presumere, vista lo stop, la pressione del nostro governo su questa vicenda, ma anche lo stop che era arrivata dall'Ungheria. E in più è arrivato appunto questo no agli arresti domiciliari che pure erano stati richiesti. Opposizioni naturalmente molto arrabbiate per questa situazione, accuse al governo di non aver fatto abbastanza. Il ministro Tagliani, irritatissimo da come sono andate le cose in udienza, ha però voluto segnalare che politicizzare la vicenda in realtà rischia di non aiutare la Salis. E ci sono anche voci che potrebbe essere candidata con il PD. Quindi segnalo per gli amanti di questa cosa l'articolo divertente e, come dire, pungente di Salvatore Merlo sul foglio che forse vi cito qualche riga, basta qualche riga per capire, come dire, lo spirito di tutto questo. Dice Ilaria Salis come Nelson Mandela, eccolo qui. La chiamano familiarmente Ilaria come Anita, la moglie di Garibaldi. Qualcuno nel PD appunto la vorrebbe candidare all'Europè, la descrivono come spinelli a ventotene e dimenticano che è una ragazza con il manganello. Direttore, che ne pensi? Ma, indubbiamente Ilaria Salis è una ragazza con il manganello, però la questione che pone Merlo nel parallelo con Tortora non tiene conto che i radicali, Pannella, candidò anche Toni Negri, candidò Cicciolina, candidò altri profili e che non era, come posso dire, la moralità, l'oggetto o il presupposto della candidatura, ma era una candidatura simbolica che aveva il compito di portare all'attenzione e nel dibattito pubblico una grande violazione dello Stato di diritto, per esempio, come nel caso Tortora e come nel caso Salis. Il punto però è che qui a fare questa candidatura, a proporre questa candidatura è un partito diverso, non è il partito radicale, è il partito democratico. E quindi Elis Lane dovrebbe capire e sapere che se fa una scelta di questo tipo non fa una scelta in linea con la storia e la tradizione e la cultura del partito democratico, ma fa una scelta di tipo radicale. Ovviamente una scelta di tipo radicale si segnala per quello che il partito radicale ha rappresentato e il partito radicale non è il partito democratico. Poi ovviamente sul terreno invece, nel merito specifico della vicenda Salis, io credo che abbia ragione Tajani, e cioè politicizzare questa vicenda rende più difficile la soluzione di questo caso, perché gli ungheresi ne hanno fatto anche loro una sorta di bandiera, tant'è vero che ieri all'udienza sulla ipotesi di concessione di domiciliari erano presenti anche frange estremiste ungheresi che hanno anche minacciato, insultato e i rappresentanti italiani. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che c'è un clima che rende impossibile una trattativa diplomatica come quella, peraltro difficile, che l'Italia condusse con l'India per la liberazione dei Marò, se ricordate. E' evidente che Ilaria Salis è la vera vittima di questa vicenda, non solo perché si trova in catene in un carcere dove le sue condizioni di vita sono incompatibili con qualunque principio umanitario e con qualunque principio di diritto penitenziario liberale, ma perché è al centro di strumentalizzazioni che da una parte e dell'altra cercano di fare del suo caso lo strumento di una battaglia politica. Questo francamente è un po' triste. Paola, che te ne pare di questa storia, di questa vicenda? Il fatto che il PD voglia candidare l'Aria Salis la dice lunga su due cose. Sono illazioni giornalistiche ancora? Sì, sono illazioni, ma molto verosimili, perché il PD cerca spesso questi simboli, anche compatte con la vicenda di Patrick Zaki, il PD ha molto parteggiato per lo studente dell'Università di Bologna. E quindi dice due cose. E tra l'altro aveva ragione nel merito della vicenda. Sì, ma sono simboli che piacciono molto alla sinistra e che la sinistra a volte anche utilizza a propri scopi elettorali. E stiamo parlando di questioni molto delicate in entrambi i casi, di vite umane. Ilaria Salis è detenuta in condizioni non umane. Per cui fare politica e fare campagna elettorale su questo la dice lunga appunto sull'impostazione che la Schlein vuole dare alla campagna per gli europei e anche alla ricerca che sta facendo di candidati, perché li cerca tutti fuori dal PD. Lo dice lunga su questo, sul PD, ma anche sulla stessa Ilaria Salis che sta vivendo un momento terribile, ma lei stessa sta facendo una battaglia, cioè ha trasformato la sua vicenda in una battaglia ed è stata forse la prima a politicizzarla e da ragione Tajani quando dice che questo complica le trattative. Forse se ci fosse stato un po' più di riservo sulla questione si sarebbe risolta prima, invece si è voluta montare strumentalmente. Si è fatta 13 mesi di arresti che non devono essere simpatici in Ungheria per un episodio che in Italia sarebbe stato poco più che bagatellare. Eh certo, però era consapevole di essere in Ungheria. No, no, sicuramente. Vi devo dare una notizia intanto che è importante perché Joe Biden, non c'entra nulla con la cosa di cui parliamo, ha affermato che l'Arabia Saudita e altri paesi arabi sono pronti a riconoscere pienamente Israele. È accaduto in una conversazione durante una raccolta fondi. Non entrerò nei dettagli, ha detto Biden, ma ho lavorato con i sauditi e con tutti gli altri arabi, inclusi Egitto, Giordania e Qatar, che sono pronti a riconoscere pienamente Israele per la prima volta. Ma deve esserci un piano post-Gaza e deve esserci una soluzione a due stati. Non avviene oggi, ma deve esserci un progresso. Penso che possiamo farlo. Allora, io mi fermo un attimo su Ilaria Salis perché vi voglio far vedere un'altra polemica di ieri con il servizio che è andato in onda alle 20 di Alessandra Sardoni. Caso studenti stranieri nelle nostre scuole. Val di Tara. Nelle aule scolastiche la maggioranza degli alunni deve essere italiana. Ci muoveremo in questa direzione. Poche righe su X, firmate dal ministro dell'istruzione e il leghista Giuseppe Val di Tara, aprono uno scontro con il Partito Democratico, Sinistra Italiana e 5 Stelle. Inevitabile, data la temperatura dello scontro politico, già alta dopo il caso Pioltello, la scuola del milanese che il dirigente e il consiglio d'istituto avevano deciso di chiudere per un giorno in occasione del Ramadan. Vista l'alta concentrazione di bambini di religione islamica, intorno al 43%, e dunque delle prevedibili assenze, con accuse di subalternità culturale da parte della destra e una difesa da parte del Quirinale, che del resto nel 22 aveva premiato l'istituto per i grandi successi quanto a integrazione e mal digerita, sia pure sottotraccia, dalla maggioranza. Sulle parole di Val di Tara, argomentate con la necessità di favorire l'assimilazione dei valori della Costituzione italiana, la lingua e di non costruire classi ghetto, si sono concentrate le critiche del PD, con Michela Di Biase e Simona Malpezzi. Da Val di Tara solo slogan, come pensa di contare i bambini che non sono ritenuti italiani solo perché non esiste lo YouSoli. La domanda, polemica, che si aggiunge al rilievo di metodo. Il ministro ricalca le parole di Salvini, la proposta lanciata ieri di un tetto del 20% di stranieri nelle classi. Critica analoga in una nota dei 5 Stelle, Val di Tara fa solo propaganda. La destra si stringe intorno al ministro Rampelli, Fratelli d'Italia ricorda che fu un'idea di Ciampi quella di distribuire i bambini immigrati nelle classi, proprio per non creare classi ghetto. Con maggior forza la Lega solidarizza con il ministro e in modo particolarmente fermo anche sull'altro caso che oggi vede protagonista Salvini, in questo caso Bersaglio. Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittima, a posteriori la precettazione che Salvini aveva disposti in occasione dello sciopero dei trasporti del 15 dicembre. Era lo sciopero di quattro ore indetto dai sindacati di base. Per il Tar si è trattato di un eccesso di potere da parte del ministro perché non c'erano le condizioni di necessità e urgenza. Una forzatura quella del Tar, la Lega non cambierà linea la replica del partito di Salvini in una nota e non è tutto. Un terzo caso in queste stesse ore vede al centro ancora il leader della Lega, lo stop deciso dall'autorità anticorruzione, l'ANAC ai lavori per la diga di Genova, rilievi sulla mancata gara d'appalto, sull'inserimento fra le opere del PNRR e altri rilievi tutti respinti dal partito, dal ministero e dal governatore della Liguria Toti. Tre capitoli che compongono, insieme alle mosse in Europa, questa fase della Lega nel governo Meloni, il tentativo di riprendere la scena sui migranti con l'1-2 Salvini-Valditara, le difficoltà nell'azione di governo nel confronto istituzionale. Francesco Giubilei, ma di che cosa stiamo parlando? Perché alla fine questi studenti, figli di stranieri ma nati in Italia, non sono italiani perché la cittadinanza la potranno scegliere quando hanno 18 anni, quindi sono italiani in potenza, dibattito inutile? No, non credo che sia un dibattito inutile, perché c'è un problema in particolare in alcune aree del paese dove ci sono le cosiddette classi Ghett, viene utilizzato questa espressione anche giornalistica per semplificare, che sono delle classi in cui sostanzialmente c'è una percentuale sempre più alta di studenti stranieri che hanno delle difficoltà, talvolta anche nel conoscere la lingua italiana, perché lo studente straniero non è solamente il figlio di immigrati che magari è nato in Italia e non essendoci lui Ussoli formalmente non è cittadino italiano, ma sono anche dei bambini o dei ragazzi che magari arrivano in Italia a 6, 7 anni, 10, 12 anni, non sanno la lingua italiana, vengono messi in delle percentuali consistenti, magari anche provenienti da parti del mondo diversi, ci possono essere studenti asiatici, studenti africani, studenti dell'est Europa, studenti dell'America, e quindi finiscono ad esserci delle classi in cui ci sono tanti bambini o tanti ragazzi che hanno proprio delle difficoltà di apprendimento, ma legate anche alla mancata conoscenza della lingua italiana che richiederà qualche anno per farlo. E quindi il rischio è che poi gli studenti, sia italiani sia anche magari immigrati, nati propriamente in Italia, rimangano indietro nell'apprendimento. Quindi cercare di fissare un tetto è un bene, sia per i bambini e per i ragazzi che arrivano al nostro paese e devono cercare di imparare l'italiano, sia anche per quegli studenti, quei bambini italiani, ragazzi italiani che sanno già la lingua. Poi c'è un altro elemento che invece riguarda un po' anche le polemiche, se vogliamo, legate a Pioltello, ed è il fatto che nel momento in cui si decide di chiudere una scuola, adesso formalmente... Il nome dell'autonomia scolastica. Adesso esatto, formalmente il nome dell'autonomia scolastica, però originariamente anche per il tema del Ramadan, perché c'erano oltre il 40% di studenti islamici con la scuola, si fa, a mio modo di vedere, un qualcosa di sbagliato, perché contraddice, se vogliamo, anche quella che è la nostra storia, la nostra identità di paese cristiano, inteso non da un punto di vista religioso, ovviamente, ma inteso da un punto di vista storico e culturale e di tradizioni. Peraltro questo avviene negli stessi giorni, in cui ci sono stati due altri episodi, uno in Emilia Romagna, in cui un sacerdote non è stato fatto entrare a scuola per fare la benedizione pasquale, sostanzialmente non gli hanno addirittura aperto le porte della scuola, a Roma addirittura, in una scuola per l'infanzia, non si è potuto celebrare la festa del papà a San Giuseppe in nome dell'inclusività, allora dobbiamo deciderci, perché se la scuola, come alcuni vogliono, deve essere laica, non è che se poi ci sono le festività musulmane, chiudiamo, e per le festività cristiane, invece, non si può essere un riconoscimento di questa identità cristiana. Fabio, che ti pare? A me pare che nella discussione pubblica si sottovaluti un aspetto assai rilevante, cioè la particolare tempestività delle reazioni del governo Meloni alle emergenze che si manifestano. Se ci fosse un tasso di reattività, si potesse misurare un tasso di reattività, io credo che il governo Meloni sarebbe in testa, diciamo, nella storia dell'intera Repubblica. Questo però comporta spesso delle reazioni superficiali e che infatti hanno provocato diverse clamorose retromarce, oltre invece ad alcuni risultati consolidati. E se prendiamo in esame le parole usate dal Ministro Valditara, che peraltro, diciamo, non è nuovo a questa tempestività e retromarcia, lui ha detto che gli italiani siano più della metà, diciamo, ecco, in quel siano c'è tutto il belletarismo, diciamo, di questa affermazione. Nel senso che attualmente, poco più di 800 mila studenti in Italia, 800 scuole già registrano una maggioranza di studenti, chiamiamoli stranieri, futuri italiani. E quindi da questo già si misura l'estrema difficoltà, anzi l'impossibilità di un riequilibrio... Come non avere sensazione di quello che è il Paese in questo momento? Beh, direi di sì. Un Ministro della Pubblica Istruzione dovrebbe averlo e rispondere all'input del capo evidentemente comporta dei problemi di gestione poi di queste affermazioni. Dal punto di vista politico dovremo valutare, nel corso delle settimane, quanta corda tirerà Salvini per, diciamo, ottenere un risultato alle elezioni europee che sia quantomeno pari a quello di Forza Italia? Paola, dimmi. Ma io vorrei solo segnalare che nelle scuole internazionali le classi vengono fatte in base proprio alla nazionalità degli alunni, proprio per creare classi omogenee e rispettare la proporzionalità, per cui non ci siano solo persone di una certa nazionalità in una classe, anzi, per favorire il confronto. Nel mondo del lavoro, organizzazioni internazionali, ci sono le quote per cui c'è un numero di dipendenti di ogni nazione che fa parte di queste organizzazioni. Quindi io proverei a invertire il ragionamento, cioè inserire delle proporzioni nelle classi aiuta a creare il melting pot, a creare lo scambio, a creare il confronto. Ma il melting pot è nei fatti, perché ormai noi siamo uno stato multinazionale per alcuni versi. Appunto, mettere la testa nella formazione delle classi per evitare che gli iraniani stiano solo con gli iraniani o i francesi stiano solo con i francesi, contribuisce a creare lo scambio. Cioè, vedo un certo pregiudizio in qualsiasi cosa faccia il governo, i ministri di questo governo, per cui viene interpretato in chiave negativa. Potrebbe al contrario invece avere un senso e portare dei benefici proprio nel confronto con quello che succede negli altri paesi e nelle realtà internazionali che vengono spesso evocate come confronto, come modello positivo, quando poi però il governo ci si avvicina e invece non vengono mai ricordate. Tu evochi uno scenario asettico con le dosi, ma qui stiamo parlando 800 scuole dove già oggi sono di più. E' difficile, sai, anche ridistribuirli dove, lontano, chi va al più lontano? Gli italiani, i cosiddetti, devono andare a 20 km di distanza per andare a scuola. E' un problema di difficile gestione e affrontarlo con queste affermazioni di stentore che gli italiani siano più della metà probabilmente non aiuta. Forse è la scuola che deve adattarsi ai suoi alunni. Esatto. Che ne pensi, direttore? Penso che dovremmo sottrarre questioni così complesse dal terreno dell'opinione e riportarle appunto nel realismo delle competenze. Mi spiego, ha ragione Martini, è evidente che qualunque preside si trova a gestire una situazione così complessa cerca di dare un equilibrio e una distribuzione pluralista alle etnie, alle culture, perché questo è il compito della scuola. Però se tu hai, come a Pioltello, in altre realtà, una maggioranza di stranieri che si è già stratificata sul territorio, certamente non è un buon rimedio l'idea di deportare i bambini stranieri prendendo un pullman in un altro quartiere, perché poi, come dire, risolvi un problema a scuola ma lo crei nella comunità, quindi i problemi vanno affrontati non con l'ideologia o delle soluzioni bandierine come quelle che ha posto Salvini o come quelle che con un pizzico di superficialità in questo caso, devo dire, ha posto anche il ministro Valditara, ma nella concretezza dei problemi. Cioè è evidente che oggi ci sono delle realtà in Italia dove la presenza di migrati supera o comunque equivale a quella di italiani e lì tu non puoi fare una deportazione, devi prendere atto che questo contesto si è determinato di rigestirlo magari con dei supporti particolari perché il problema esiste e lo testimoni un bellissimo film di qualche anno fa, La classe, girato in Francia, dove questi problemi sono arrivati prima di noi e dove ricordo che c'era una classe con 25 bambini che parlavano ciascuno una lingua diversa e che non comunicavano fra loro, quindi il problema effettivamente esiste. Poi c'è un secondo tema, quello che pone i Giubilei, che è l'aspettativa di riproducibilità sociale di una comunità, quella che si chiama genericamente difesa di identità. Questo secondo me è un problema da porre legittimo ancorché l'identità non è un dato biologico-etnico, è un dato della civiltà e della cittadinanza. Quindi l'identità, diceva un grande scrittore come Mim Maluf, è un patchwork che si compone e si ricompone ogni giorno integrandosi. Quindi se noi vogliamo immaginare un'attesa di riproducibilità sociale fondata su un'identità legata alla tradizione del cristianesimo, non teniamo conto che purtroppo la realtà è diversa dalle nostre aspettative. I patti lateralensi furono firmati dal governo italiano perché c'era una percentuale di cristiani del 98%. Nel momento in cui tu hai all'interno delle classi una componente musulmana del 43-45% tu è giusto che tenti di integrarla ma non puoi non riconoscere a quella componente il diritto nello spazio pubblico di tenere vive le sue tradizioni purché è compatibile ovviamente con i presupposti diciamo della democrazia che sono gli elementi fondanti della nostra civiltà quindi la scuola quindi la scuola che deve badare al suo territorio e i suoi potenziali alunni è la scuola che con realismo deve decidere cioè nel caso di Pioltello è evidente che c'è una componente musulmana tanto forte che non ha senso pensare di assimilarla negandole le tradizioni e il realismo di ogni situazione l'autonomia scolastica deve consentire ai presidi di trovare il punto giusto di quell'integrazione perché la verità è questa il compito della scuola l'educazione poi che riguardi i cittadini che sono di fede musulmana cattolici romani atei o quello che sono vale per tutti ci fermiamo un istante le 8 e 31 io saluto Tonia Mastrobuoni di Repubblica buongiorno Tonia che oggi pubblica una delle cose più interessanti che si trovano nei quotidiani sotto un titolo che già è forte del suo giornale Putin minaccia la Nato c'è la sua intervista al premier polacco Donald Tusk la guerra è alle porte titola il giornale e vediamo questa ampia intervista eccola un pericolo reale dice Tusk ma l'Unione Europea non è pronta cominciamo a mettere i piedi nel piatto di una delle cose più importanti di questa stagione al Consiglio Europeo dell'altro giorno l'Europa in questa enorme risoluzione come sono queste risoluzioni al punto 43 al punto 43 quindi non teoricamente fra le priorità citava questa necessità di organizzare una difesa comune che è quella la quale ci richiama con grande forza Tusk è una domanda che ci si pone ovunque quella del pericolo di guerra non voglio spaventare nessuno dice ma la guerra non è più un concetto del passato è reale è già iniziata più di due anni fa quindi dalla guerra in Ucraina la cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile è la prima volta dal 45 che ci troviamo in una situazione del genere so che sembra devastante soprattutto per i più giovani ma dobbiamo abituarci mentalmente all'arrivo di una nuova era è l'era prebellica non sto esagerando sta diventando ogni giorno più evidente Tonia la Polonia è in prima linea perché ha contatto diretto con la Russia ma la minaccia è reale forte e Putin ce lo ricorda ogni giorno sì la Polonia ovviamente ha già vissuto dei momenti di grande ansia vi ricorderete un anno e mezzo fa quando cadde un missile alla frontiera tra Ucraina e Polonia però in territorio polacco per un momento si pensò di dover attivare addirittura l'articolo 5 del trattatore Nato quello del mutuo soccorso insomma fu mi ricordo una notte e un giorno molto esagitati io andai lì e scoprì peraltro che era stato colpito la fattoria di un imprenditore italiano perché poi i imprenditori italiani sono ovunque nel mondo sono pionieri come noto poi di recente io abbiamo incontrato appunto Consorzio Lena con questa prima intervista con i giornali internazionali da quando si è insediato Tusk l'ho incontrato poco dopo un altro allarme lo ricorderete quello dei giorni scorsi di un aereo di un missile russo che ha attraversato anche lì il confine tra Ucraina e Polonia è stato per un po' seguito poi è sparito guarda ti do la notizia se caccia polacchi Varsavia ha riferito di una maggiore sorveglianza dello spazio aereo il comando operativo delle forze alleate ha fatto decollare questa notte i suoi aerei e quelli alleati e ha avvertito i cittadini questa notte c'è stata un'intensa attività da parte dell'aviazione a lungo raggio dei russi associata ad attacchi missilistici su obiettivi situati nel territorio dell'Ucraina anche oggi quindi la stessa situazione Sì esatto il conflitto in Ucraina si è spostato molto più in Occidente è stata di nuovo colpita Leopoli dopo un sacco di tempo che è la città più importante a ovest del paese insomma in Polonia devo dire ogni volta che vado si percepisce con grande forza questa con grande ansia questa vicinanza della guerra e questo pericolo russo e a un certo punto Tusk me lo dice anche diciamo online c'è anche la versione integrale lui racconta che Sanchez all'ultimo Consiglio Europeo quello che citavi anche tu gli ha detto ma insomma basta parlare di guerra non spaventiamo la gente e lui ha detto ma dalla nostra parte l'Europa questa guerra è una percezione quotidiana e la sua richiesta è quella ovviamente che l'Europa si attrezzi a uno scenario del genere lui dice che il 2% di spesa per la difesa in rapporto al Pi è il minimo è un must dice lui e non capisco chi possa mettere in discussione e la cosa interessante forse per noi è che lui apre anche gli eurobond insomma lui dice facciamo gli eurobond prendiamo i fondi della Bay quello che volete però i singoli paesi devono assolutamente aumentare la spesa per la difesa la Polonia lo voglio ricordare è al 4% noi siamo al di sotto del 2% quindi la sua è anche una polemica un po' nei confronti dell'Italia di quei paesi che non si affrettano ad allinearsi a quello che poi è un impegno della Nato perché è l'impegno del vertice del Galles quel 2% e poi dice però a livello europeo possiamo mettere insieme le forze e creare un fondo più generoso più robusto anzitutto per aiutare l'Ucraina perché l'altra cosa che lui dice è che se l'Ucraina perdesse la guerra l'Europa dovrebbe sentirsi nessuno in Europa può sentirsi più al sicuro devo dire mi ha fatto molta impressione anche lui ha raccontato lui viene da un da un paesino sul mar Baltico e ha raccontato che insomma anche i suoi nipoti gli chiedono se ci sarà la guerra e che lui ha visto questa foto del 30 agosto il 1939 lui aveva questa foto appresa in casa il 30 agosto il 1939 di questi di questi insomma cittadini della città di Soros che facevano il bagno che sorridevano erano allegri una dozzina di ore dopo come sappiamo è cominciata la seconda guerra mondiale con una operazione che oggi si direbbe di false flag dei nazisti e quindi insomma quella di Tusk è un'intervista che sostanzialmente dice da questa parte dell'Europa la guerra si sente non fate non fate le illusioni Putin appunto sta usando di nuovo un attentato di matrice completamente diversa rispetto a quella che lui ha individuato cioè è un attentato di matrice islamica e lui invece appunto ha dita l'Ucraina dalla colpa all'Ucraina per giustificare bombardamenti molto più pesanti perché l'altra cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci è che da quando c'è stato l'attentato i bombardamenti si sono intensificati sull'Ucraina e si sono spostati a ovest ed è anche questo che aumenta l'angoscia in Polonia nei paesi baltici in quei paesi che appunto l'annusano la guerra Francesco la guerra non è ineluttabile naturalmente però Putin continua a minacciarci tutti i giorni cosa sta facendo ieri questa frase terribile su gli F-16 che potranno essere inseguiti e colpiti anche se dovessero partire in soccorso dell'Ucraina da basi della Nato e quindi in territorio diverso dall'Ucraina stessa sta attestando la nostra determinazione? Sì questa frase poi non si è ben capito che cosa volesse dire poi nello specifico Putin è chiaro che da una prospettiva polacca e questo lo scopriamo non solo oggi ma dallo scoppio della seconda guerra mondiale in avanti la Russia viene percepita dai polacchi come una delle principali minacce per l'Europa e la posizione polacca è una posizione molto forte e lecitamente anche per questioni storiche anche per questioni geografiche dopodiché è chiaro che la linea che deve tenere tutta l'Europa è una linea che deve andare nella direzione a mio modo di vedere in particolare dopo due anni del conflitto di una soluzione di carattere di carattere diplomatico e credo che le fughe in avanti e le prese di posizioni di Macron non aiutino da questo punto di vista cioè quello che ha detto Macron qualche giorno fa della possibilità di un invio di truppe europee francesi o italiane o comunque occidentali in Ucraina rischia di generare ancora più tensione e al contrario credo che un altro elemento fondamentale per la risoluzione del conflitto saranno le elezioni negli Stati Uniti di novembre perché è chiaro che se nelle elezioni di novembre dovesse vincere Trump che è un'ipotesi probabile probabilmente la linea degli Stati Uniti nei confronti della guerra in Ucraina potrebbe cambiare potrebbe cambiare e ci potrebbe essere un'accelerazione proprio volta alla risoluzione del conflitto è chiaro che Putin in questa fase potrebbe utilizzare l'attentato l'attentato lo ha messo lui stesso di matrice islamista lo potrà utilizzare lo vorrà forse utilizzare per lo ho già detto in alcune dichiarazioni per giustificare una ripresa della guerra in Ucraina con delle modalità più forti rispetto a quelle che ci sono ad oggi Direttore Barbano però questa definizione sempre dell'Ucraina ieri sarebbero stati scoperti anche come dire chi ha finanziato da parte di Kiev gli attentatori e sembra un po' non ci credono probabilmente neanche in Russia sono più bravi i russi nella guerra ibrida però naturalmente il colpo a sorpresa la ditata di una settimana fa una ditata con un attentato in piena Mosca naturalmente ha messo Putin di fronte a una realtà anche diversa i russi sono bravi a fare breccia con la loro propaganda sulle opinioni pubbliche occidentali e anche sull'elite italiana insomma perché è evidente che questa è una falsificazione profonda che funziona dentro un paese arretrato come la Russia anche grazie al controllo dei media e non dovrebbe diciamo aprire breccia dentro le opinioni pubbliche di democrazie liberali consolidate constato che invece questa breccia si apre e quindi se speggiano dubbi tentennamenti e il fatto stesso di comunque configurare l'attentato di matrice islamica come un'occasione che Putin ha di giustificare una nuova intensificazione di rappresaglia sull'Ucraina è come indirettamente accreditare una matrice ucraina dell'attentato non è così come ben sappiamo è una pura falsificazione evidente come è anche una pura diciamo falsificazione quella di invocare una soluzione diplomatica come se questa soluzione diplomatica dipendesse dall'Europa o dall'atteggiamento di Biden o piuttosto di Trump che secondo me in ogni caso non cambierà sostanzialmente la posizione degli Stati Uniti su questa partita il problema è che Putin la pace non la vuole o meglio la vuole a delle condizioni che sono inaccettabili e quindi siccome lo statuto della pace in Europa dopo la seconda guerra mondiale ha una consustanziale diciamo sostanza nella distinzione fra aggredito e aggressore è evidente che non si può pensare di riconoscere a Putin ciò che ha prodotto con un'opera di aggressioni di un paese inerme anche perché quella non sarebbe una pace sarebbe una condizione di equilibrio precario legittimando una potenza imperialista e fuori controllo a considerare quanto avvenuto un suo diritto quindi l'Europa si trova di fronte a un vivio drammatico indubbiamente non deve fare nulla su questo si sono d'accordo con Giubilei per commettere diciamo l'errore che possa non giustificare possa scatenare la follia dello zar ma deve fare tutto ciò che è possibile per piegare lo zar a una trattativa che rimetta la situazione se non proprio nelle condizioni di ripristinare la situazione coante in una situazione in cui le frontiere dell'Europa e l'equilibrio geopolitico dell'Europa dell'Est è garantito alle condizioni della democrazia occidentale e della sovranità dell'Ucraina allora io voglio Fabio Martini citare un'altra cosa che arriva da Repubblica di oggi che è molto interessante ed è un sondaggio di Antonio Noto tre risposte vi segnalo per il 53% degli intervistati l'attentato a Mosca è stato compiuto dall'Isis 53% dice Isis 23% dice una fazione rivale di Putin 5% dall'Ucraina quindi non mi pare passato il messaggio di Putin ma è ancora più interessante la seconda domanda la maggioranza degli italiani chiede un esercito europeo 53% a favore 53% 35% di contrari e un 12% di non saprei terza considerazione il 38% degli italiani pensa che si troverà un accordo di pace e la Russia si accontenterà si fa per dire di una parte dell'Ucraina mi paiono pragmatici gli italiani sì e per una volta possiamo dire anche grazie alla funzione dirigente della politica noi siamo abituati come dire sempre a sottovalutare a denigrare a giudicare criticamente con la necessaria forza gli indirizzi politici occorre riconoscere anche da chi non ama questo governo che la presidente Meloni ha tenuto sui dossier internazionali ha trovato una misura diciamo tra virgolette giusta nel senso che ha collocato l'Italia su tutti i dossier con una posizione netta ma non diciamo distruttiva e lo ha confermato anche ieri in Libano con un discorso particolarmente felice come molto felice è stato anche quello in Parlamento l'ultimo quello sulla politica estera prima del Consiglio Europeo e richiamando appunto come appunto la pace un conto è avere dei buoni sentimenti e un conto è raggiungerla attraverso anche la deterrenza che in questo caso può essere esercitata cioè lo strumento di cui si è parlato poi al Consiglio Europeo sia pure al punto 43 della risoluzione quindi no ecco è vero che così come l'intervista di i giornali sono pieni di interviste su Prefler l'intervista di Tusk è assai interessante ma lo è anche questo sondaggio che rileva evidentemente anche con delle domande ben poste perché a volte i sondaggi ormai noi viviamo in una sondocrazia si vive soltanto di sondaggi però quando le domande sono ben poste riescono ad ottenere delle risposte più più pensate questo sondaggio è molto interessante perché rileva un'opinione pubblica un po' diversa da come ce la raccontiamo ogni tanto no soprattutto Paola 53% a favore dell'esercito europeo un esercito europeo presuppone un'Europa completamente diversa presuppone una vera unione politica perché non si fanno gli eserciti europei se non esiste uno Stato europeo quindi è un passaggio molto forte forse alcuni degli intervistati non comprendevano magari è vista come uno scarico di responsabilità lo affidiamo all'Europa e si sente un peso italiano minore nella prospettiva nella prospettiva però io lo leggo una sorta di liberiamoci di questo peso se la vede l'Europa che è un modo per delegare dopodiché la storia delle spese militari al 2% di tutti i paesi europei fu una questione posta 8 anni fa da Trump che fu sbeffeggiato in ogni modo anzi si disse vuole distruggere spaccare l'Europa e abbandonare la Nato quando invece diceva quello che poi oggi ci troviamo a dire tutti quanti europei l'intervista di Tusk purtroppo la vedo con una sorta di retropensiero cioè tutto quello che avviene al ridosso dell'Europa è inevitabile che abbia un background politico o un obiettivo politico Tusk mira a fare nuovamente per la seconda volta il presidente del Consiglio europeo e rilascia questa intervista ma non credo che è appena diventato premier del suo paese eh sì però perché guarda che lì c'è un altro bel nome che è molto forte lo so infatti crea competizione lo so che è appena diventato premier però i sondaggi parlavamo di sondaggi in Polonia non danno tanto gradimento al suo partito tanto che all'Europa si teme che prenderà meno voti di quelli che ha preso alle elezioni nazionali per cui e dico purtroppo mi dispiace perché ci sono due guerre c'è una situazione economica che non è felice ma tutto quello che avviene ai più alti livelli purtroppo spesso è influenzato dalle elezioni e dal tornaconto politico personale che i protagonisti possono avere e devo dire lo diceva anche Fabio Martini prima chi sta dimostrando maggiore distacco maggiore credenza e maggiore razionalità è proprio il governo italiano ed è proprio la Presidente Meloni che forse più degli altri è sicura del consenso e della presa che ha sull'elettorato e altri leader europei ma anche negli Stati Uniti al momento non hanno per cui rimarchiamo cioè mi fa piacere che l'abbia notato anche Fabio Martini la razionalità e la freddezza dell'Italia in questa fase molto delicata è un unicum nel contesto europeo e internazionale sei una battuta mi devo fermare posso dire una cosa no no molto brevemente rapidamente Martini l'unico governo rientra in quella retorica meloniana che parla sempre Macron vi sembra freddo e razionale o vi sembra guidato ma certo che lo è ma anche evocando e Scholz vi sembra libero dal condizionamento politico questo non è un buon Scholz ha un campo largo difficile da governare Meloni ha un problema che parla sempre in prima persona non come a nome del governo ma a nome di se stessa e naturalmente facendo queste sviolinate una sola cosa scusami una sola cosa sulla Polonia riportare ad una lettura unicamente interna mi sembra paradossale stiamo parlando di un paese brutalizzato dalla storia nel 39 ci fu quel cinico accordo tra Hitler e Stalin per la spartizione della Polonia la Polonia sente sempre il tallone russo e quindi e si ricorda i tedeschi e si ricorda i tedeschi di Tonia prego siccome bisogna un po' diciamo dire le cose storicamente come stanno e non inventarsi altre cose l'impegno del 2% era nato un impegno che pesero solennemente tutti i paesi dell'alleanza atlantica certo ma mai rispettato del Galles che era stata discussa già prima capisco che c'è l'esigenza di fare propaganda pro Trump ma nessuno nega che Trump come dire possa diventare presidente degli Stati Uniti e soprattutto Tusk perché si chiama Donald Tusk non Tusk ha detto molto chiaramente che chiunque arrivi alla Casa Bianca comunque non esime l'Europa dal doversi armare o riarmare leggere appunto l'intervista Tusk che è la prima intervista appunto a giornali stranieri in una lettura così piccina cioè che lui punterebbe allora Tusk se uno sa un minimo di Polonia sta ricostruendo un paese che è stato devastato da 8 anni di autocrazia degli alleati più stretti che sono i polacchi del PIS va bene va bene mi pare adesso era un governo democraticamente eletto come il governo Tusk ok 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 voglio dire difficile la politica che è sempre l'autocrazia quando vince il centro-destra e poi quando vince l'euro è stata condannata dalla commissione europea è stata condannata la corte giustizia europea e le sono stati tolti 35 miliardi di euro è stata perdita una procedura di infrazione che poi non è andata a buon fine è in collegamento in Europa e quasi su fiducia dopo 8 anni di devastanti governi del PIS ma non è vero devastanti grandi politologi del mondo descrivono le autocrazie ci mettono Ungheria e Polonia come 11 due paesi d'Europa in Israele quando a ottobre si protestava contro la riforma della giustizia di Netanyahu i cartelli dicevano noi non siamo la Polonia hanno distrutto un sistema giudiziario Tusk lo sta ricostruendo ma non è così Polonia mi devo fermare non voglio interrompere il dibattito di politica interna polacca ma mi devo fermare ho la pubblicità molto appassionante intanto saluto il direttore Alessandro Barbano e lo ringrazio per essere stati con noi grazie ci vediamo fra un istante e riprendiamo perché come vedete il dibattito è caldo le 8 e 58 do il buongiorno a Maurizio Caprara che vedevo stava assistendo in collegamento alle cose che dicevamo Maurizio ti faccio mettere subito i piedi nel piatto abbiamo parlato tanto di Macron buongiorno Macron nei giorni scorsi ha sollevato un'altra questione al di là dei boots on the ground che già in qualche caso ci sono perché ci sono addestratori occidentali in Ucraina e questo non è un segreto Macron ha lanciato un'altra suggestione fino a due mesi fa Ursula von der Leyen sembrava certa della riconferma alla Commissione europea alla guida della Commissione europea diciamo che Macron ha lanciato un dubbio e ha detto che servirebbe una figura diversa e qualche d'uno nel profilo ha visto il volto di Mario Draghi Mario Draghi è come si dice in Italia di una reserve della Repubblica in Francia una reserve della Repubblica lo è anche per l'Unione europea diciamo è paradosso che venga sia proprio effettivamente il motto sia francese è sicuramente una persona che ha qualità è una persona che ha esperienza ha avuto la presidenza della banca ci credi quindi no non è che ci credo queste cose sono determinate da una somma di fattori non semplici da capire con largo anticipo anche perché di mezzo ci sono le elezioni europee che non sono proprio un dettaglio su questo certamente scegliere Mario Draghi per la presidenza della Commissione europea significherebbe dare un impulso molto forte all'istituzione diciamo un metodo che si è purtroppo indebolito facendo puntare l'approccio intergovernativo rispetto a quello comunitario in senso stretto di certo Draghi ha delle sue carte a proprio vantaggio quello di aver dato la linea dell'Unione europea nel come superare la fase del Covid con interventi pubblici nell'economia quindi in qualche modo ci sono quei paradossi della storia per cui il banchiere è diventato il difensore delle classi popolari però questo è avvenuto e lo ha fatto prima ancora che fossero varati quello che per noi oggi è il piano nazionale di ripresa e resilienza lo fece sul Financial Times dettò la linea che poi in realtà allora fu vista con grande sorpresa e poi dopo è diventata la linea seguita seppure con dei ritocchi presto per dirlo bisognerà secondo me vedere davvero i risultati e bisognerà soprattutto vedere se gli stati soci dell'Unione europea hanno intenzione di rilanciare il progetto dell'Unione europea o hanno intenzione di farlo vivacchiare vivacchiare in tempi tumultuosi quali quelli che stiamo cominciando a vivere è rischioso da questo punto di vista quindi sarebbe una scelta saggia non so sinceramente se le classi dirigenti politiche attuali in particolare quelle politiche hanno questa lungimiranza Paola Tommasi che te ne pare perché il nome diciamo resta nell'ambito europeo anche se Ursula von der Leyen stessa aveva cercato di come dire di metterlo di chiuderlo in un armadio offrendogli questo ruolo di guida degli studi per il futuro dell'Unione europea sì sì Draghi ha avuto un ruolo fondamentale nell'uscita economica dal periodo del covid così come lo aveva avuto in precedenza dalla banca centrale europea per l'uscita della crisi dell'euro per cui anche non c'è due senza tre come si dice può dare il suo contributo anche in questa fase per l'uscita dalle guerre da questo scenario internazionale molto complesso quindi assolutamente favorevole anche perché Salvini lo dice in maniera molto esplicita che non voterà nessun non vuole von der Leyen alla guida della commissione europea e lo dice senza giri di parole il pensiero l'idea circola in Europa è sempre più circola sempre di più con più frequenza ma non lo dicono esplicitamente quindi anche qui è sempre due pesi e due misure anche perché quando Salvini dice mai più von der Leyen no a un secondo mandato di von der Leyen nella commissione europea viene attaccato da tutti in realtà poi a Bruxelles si lavora sotto banco per giungere a quel risultato volevo rispondere però a Tonia Mastrobuoni sulla questione no no non sulla Polonia ma sulla Nato vero che il 2% era stato stabilito molto prima di Trump ma non era stato neanche mai rispettato anzi Trump lo riporto e non è per fare propaganda è un riportare i fatti e Trump ripose la questione al centro della politica internazionale nessuno lo ascoltò tant'è vero che 8 anni dopo parliamo ancora di quello ma sono ancora più favorevole della Mastrobuoni e di chiunque altro e anche degli italiani del sondaggio alla difesa comune europea e la mia tesi fuori dalla propaganda che passa per l'unione politica trampiana 8 anni fa era quella in cui dicevo e sostengo ancora se Trump è una minaccia per l'Europa può essere anche però un'opportunità cioè l'Europa deve liberarsi deve finire di essere il figlio protetto degli Stati Uniti è l'occasione buona per renderci autonomi e responsabilizzarci abbiamo fuggito l'occasione 8 anni fa magari la cogliamo questa volta ma io vedevo in chiave non propagandistica ma di opportunità e di stimolo all'Unione Europea la vittoria di Trump cioè se lui è il male assoluto allora noi diventiamo finalmente grandi cosa che però non è stata fatta Fabio Martini l'Europa l'Unione Europea ha di fronte a sé un doppio problema in questi 70 giorni che ci separano dalle elezioni da una parte c'è l'aggressività russa confermata quotidianamente da Putin o dal suo ventrilo come Dviedev e dall'altra il rischio che gli Stati Uniti a novembre tornino più isolazionisti che mai con Trump facendo perdere a Washington quel ruolo diciamo di fratello maggiore nella Nato che ha sempre ricoperto perché nel bipolarismo mondiale o nel multipolarismo attuale gli Stati Uniti hanno questo ruolo è proprio così infatti siamo di fronte a possibili cambiamenti epocali quindi tocca muoversi spesso nelle nostre discussioni si enfatizza tutto però ogni tanto accadono effettivamente degli eventi grandi enormi e noi siamo alla vigilia di possibili eventi particolarmente destabilizzanti e che richiederanno come dicevi te una riposizione da questo punto di vista va studiato meglio al di là di una certa faciloneria diciamo come si sta muovendo il presidente francese che ovviamente non vuole mandare le truppe francesi al fronte soltanto appunto la propaganda russa può immaginare una cosa del genere ma è evidente che in vista di una ridefinizione della potenza europea la Francia che ha un seggio permanente all'ONU e ha la potenza nucleare è posizionata assai meglio della Germania che si è dopo il 45 disarmata per via del senso di colpa derivante dalla guerra feroce di Hitler quindi è evidente che c'è una competizione di nuovo Francia Germania dopo anni di consolato e questo è evidente si evidenzia anche in questa diciamo corsa per la presidenza della commissione non si capisce perché la presidente tedesca dovrebbe non essere confermata se i numeri lo consentiranno e invece inizia questa idea che ci possa essere un candidato alternativo e che questo possa essere appunto Mario Draghi per via del suo carisma piccola chiosa ovviamente caso mai si creassero le condizioni le precondizioni per una presidenza del consiglio della commissione da parte di Mario Draghi ovviamente la posizione dell'Italia sarebbe decisiva non è possibile una presidenza Draghi con il neveto dell'Italia e questo è tutto da vedere e sarebbe difficilissimo però Francesco Giubilei per Giorgia Meloni maneggiare un eventuale nome di Draghi senza essere come dire senza consentire che un italiano possa guidare o la commissione o essere il presidente del consiglio europeo che sarebbe un'altra carica diventa un problema di politica interna e di internazionale enorme ma diciamo che tutto questo dibattito che capisco essere molto affascinante anche dal punto di vista giornalistico ma non l'abbiamo posto a noi la questione chiaro così come il dibattito su Ursula von der Leyen in realtà non tiene conto di un fatto e il fatto è che il modello elettorale all'europeo è molto diverso rispetto a quello italiano come tutti ben sappiamo l'europeo si vota con il sistema proporzionale e quindi sostanzialmente non ci sono delle coalizioni il vecchio sano sistema proporzionale che anche meglio mette più chiarezza se vogliamo e questo fa sì che i vari partiti politici in Italia così come nel resto d'Europa appartengano ognuno a dei gruppi diversi per cui c'è il partito democratico che appartiene alla socialdemocrazia i centristi che appartengono al Renew la Lega Identità e Democrazia e Fratelli d'Italia ai conservatori riformisti e Forza Italia al Partito Popolare più altri gruppi siamo l'unico paese al mondo che è presente praticamente tutte le formazioni politiche sì anche perché l'Italia comunque è la terza nazione quindi è chiaro che c'è una proposta politica molto baropinta questo per dire che cosa? per dire che la decisione poi del commissario europeo del presidente della commissione europea dei vari commissari europei si farà non ante ma post il voto nel momento in cui si andrà a definire quale sarà lo scenario e lo scenario ad oggi è quello della cosiddetta maggioranza Ursula che è formata prevalentemente dal Partito Popolare da un lato e dai socialisti dall'altro lato la sfida credo del centrodestra italiano di Giorgia Meloni e non solo è quello di cercare di costruire una maggioranza alternativa che non tenga al suo interno i socialisti cosa facile a dirsi molto difficile a farsi perché in realtà probabilmente non ci saranno i numeri per creare un'alleanza tra i popolari i conservatori e anche le altre forze quindi si innescherà ovviamente una trattativa e nel momento in cui ci sarà questa trattativa tutto può succedere Certamente diciamo che Giorgia Meloni per ora si è mostrata molto pragmatica nei suoi rapporti europei non è così Tonia Mastrobuoni perché l'avvicinamento inatteso che si è avuto in quest'anno e mezzo di governo quello che è di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen è stato sicuramente un fatto nuovo e da segnalare perché l'Italia sembrava distantissima da Bruxelles e poi con questa intesa che c'è stata fra le due leader ci siamo trovati vicini vicinissimi pragmatismo di Giorgia Meloni Sì guarda ne parla anche tu Scoggi anche se io cercavo di incalzarlo su qualche tentazione che Meloni ha chiaramente all'interno perché ovviamente la Premier non ama molto il dissenso quindi in questi mesi ha abolizzato noi giornalisti ha abolizzato addirittura il mio editore sta abolizzando magistrati attivamente però Tuska ha detto questo è qualcosa che io non so perché non la conosco abbastanza ovviamente non condivido perché sono i metodi che lui poi ha sperimentato ha assaggiato in maniera molto più brutale in Polonia in otto anni di governo del PIS però la cosa interessante secondo me le cose interessanti sono due uno questa percezione appunto in qualche modo diversa che in Europa sia di Meloni ma io l'ho sempre scritto anche persino la SPD ha ammesso che rispetto alle aspettative che erano devastanti ma anche per una campagna elettorale molto aggressiva di Giorgio Meloni Meloni ha fatto una campagna elettorale ancora anti-europeista in cui tuonava contro i poteri forti addirittura Soros quindi campagna elettorale antisemita su questo ordine mondiale che Soros vorrebbe sovvertire facendo entrare un sacco di migranti in Europa la sostituzione etnica insomma tutte parole d'ordine della destra estrema che lei ha abbandonato il giorno stesso in cui si è insediata a Palazzo Chigi per prendere una linea molto più moderata e naturalmente il resto d'Europa è estremamente sollevato dal fatto che lei abbia una posizione filo-atlantista e filo-europeista molto filo-europeista come dici tu lei ha una forte sintonia con Ursula von der Leyen che l'ha seguita praticamente ovunque è andata con lei in Tunisia per fare questo accordo che poi è stato fallimentare sui migranti è andata in Albania adesso in Egitto quindi c'è l'alluvione in Italia esatto però quello che volevo dire di von der Leyen la mia sensazione è che lei sia è vero una candidata estremamente debole ma lo si è visto anche a Bucharest a Bucharest dove c'è stato il congresso del Partito Popolare Europeo del Partito Popolare Europeo che è il partito di Ursula von der Leyen diciamo la sensazione è stata quella di una candidata piuttosto ammaccata già la CDU ci ha messo tantissimo tempo a candidarla la candidata un pochino un po' in maniera tiepida a sua candidata perché nella stessa CDU Ursula von der Leyen è stata sempre percepita come una sorta di marziana una strettissima aleata di Merkel una donna troppo di sinistra per un partito conservatore come la CDU adesso negli ultimi tempi von der Leyen per adeguarsi un po' al clima ha intrapreso una svolta a destra sui migranti soprattutto su il Green Deal che sta distruggendo sistematicamente in Europa con la connivenza il PPA però al momento del voto per la nomina è successo qualcosa di incredibile c'è un centinaio di deputati scusate delegati del PPA che erano lì a Bucharest erano venuti apposta per il congresso è improvvisamente scomparso si sono dileguati e un altro centinaio ha votato contro quindi lei ha avuto sostanzialmente 200 defezioni al momento del voto tra tutti i contrari e gente improvvisamente desaparecida che non hanno esattamente investita con furore non appare fortissima neanche in casa e Weber diciamo che non è un suo amico per essere gentili Weber parla con Meloni per un motivo molto egoistico questo viene ricordato troppo poco Weber parla con Meloni perché dopo l'elezione europea non ha più un ruolo mi devo fermare perché c'è la pubblicità all'ultima parte però vi devo dare una notizia di cronaca che ha fatto discutere è stato trovato questa mattina alla stazione centrale di Milano Edoardo Galli chi è Edoardo Galli è quel ragazzo di 16 anni che era scomparso lo scorso 21 marzo da Colico in provincia di Lecco il ragazzo pensate stava facendo il biglietto per rientrare a casa è stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori che ha avvisato il personale dipendente delle ferrovie dello Stato e la polizia la vicenda si è chiusa ci fermiamo un istante Allora 9.21 abbiamo un paio di minuti per uno per commentare Maurizio riparto da te quello che Biden ha detto in questo suo intervento durante una raccolta fondi ha detto che l'Arabia Saudita e altri paesi arabi e ha incluso Egitto Giordania e Qatar sono pronti a riconoscere pienamente Israele a patto ha detto che ci sia un piano post-Gaza una soluzione a due stati questo non avviene oggi ma deve esserci un progresso penso che possiamo farlo è un'affermazione molto forte e molto importante in una crisi che al momento è senza soluzione è anche una spiegazione di perché c'è stato il massacro del 7 ottobre in Israele da parte di Hamas che temeva e voleva contrastare esattamente l'intesa tra Israele e stati arabi disposti a fare un salto in avanti nelle relazioni quindi è un'affermazione che ha vari lati uno è sicuramente di politica interna ed è un lato da considerare che è quello che consente a Biden l'indicare questa prospettiva diciamo di far vedere la possibilità di un raggio di luce nella crisi medio orientale di sfiatare o almeno questo è uno degli scopi di sfiatare la pressione di settori di elettorato americano che possono essere attratti invece da propaganda più filo palestinese e questa è una cosa che sta creando problemi al partito democratico e chiaramente Biden gioca la carta del guardare oltre il momento e in realtà dato che questo è un riprendere proprio il film della storia che si era interrotto il 7 ottobre è una è una osservazione molto anche molto sensata dentro la quale c'è anche una implicita pressione verso Benjamin Netanyahu per riporre un giorno o altro ma io credo che gli Stati Uniti puntino a una sostituzione del primo ministro israeliano ma è un messaggio rivolto anche a Israele per dire si costruisca la prospettiva per il dopo e la si costruisca con consenso con con paesi arabi ti pare che sia così Francesco cioè è l'impulso nuovo che potrebbe sbloccare finalmente una situazione però creando molto attrito sia con Hamas che naturalmente è quello che non vuole sia con Netanyahu le parole di Biden vanno lette su due fronti uno è un fronte di politica interna e uno è un fronte di politica estera sul fronte di politica interna c'è un elettorato democratico in cui sta crescendo sempre di più un malcontento per la linea di Biden nei confronti della guerra tra Israele e Hamas accusa Biden di avere le posizioni troppo filo israeliane sostanzialmente e quindi Biden sta cercando di modificare la linea dopodiché c'è il fronte invece di politica estera in cui sono d'accordo che probabilmente queste parole di Biden vanno nella direzione di cercare a dire a Netanyahu se si riesce a raggiungere una soluzione su Gaza e si evita questo l'ha detto anche nei giorni scorsi l'ingresso a Rafa perché di questo si tratta con l'esercito israeliano e a quel punto se tu blocchi l'ingresso a Rafa e cerchi di portare a una descalation noi come americani ti diamo le garanzie che i famosi patti di Abramo che erano stati peraltro immaginati da Trump si possono poi realizzare però c'è una terza e concludo chiave di lettura che riguarda anche poi la politica interna israeliana perché è chiaro che Netanyahu ha da un punto di vista suo politico l'interesse di continuare a portare avanti la guerra per la sua sopravvivenza politica ma c'è anche tutta una componente che ad oggi è maggioritaria dell'opinione pubblica israeliana che vuole una sconfitta totale di Hamas per evitare che gli atti terroristi del 7 ottobre si possano continuare a tornare come è avvenuto in quell'occasione quindi il quadro è molto complesso e non credo che queste dichiarazioni possano portare a breve a una descalation Tonia ma un fatto è sicuro questa cosa muove lo scenario e c'era bisogno di una scossa perché tutto sembrava fermo ma guarda il problema vero è che Biden rischia di perdere le elezioni presidenziali oppure rischia di perdere in maniera ancora più clamorosa se continua a stoppare appunto i voti del Consiglio di Sicurezza adesso non l'ha fatto si è astenuto e credo che il risultato sia un risultato importante insomma non c'è dubbio con tutto il sostegno che si possa dare a Israele che non si capisca assolutamente dove voglia andare Netanyahu cioè vuole andare a Rafa a distruggere Rafa e questo è il modo per distruggere Hamas non sono io a mettere in discussione questa strategia però insomma sono molti leader nel mondo ormai che sono imbarazzati rispetto o addirittura arrabbiati con Netanyahu l'Europa dall'inizio del conflitto o dall'inizio del massacro il 7 ottobre nei confronti degli israeliani ha mantenuto una posizione non univoca insomma è stata totalmente cacofonica su questo da un lato avevamo gli spagnoli che dal primo giorno ha chiesto c'è stato il fuoco dall'altra parte nel lato opposto avevamo la Germania che a lungo non ha voluto neanche prendere in bocca la parola c'è stato il fuoco ha chiesto sempre solo una pausa umanitaria quindi in questo contesto credo che i segnali che arrivano negli Stati Uniti siano molto importanti ma siano molto importanti anche per Biden per non per non indebolire ulteriormente il sostegno verso appunto di una parte dei cittadini americani verso lui Paola Paola Tommasi sono affermazioni molto importanti che potrebbero preludere alla riapertura di una trattativa nulla di nuovo bisogna vedere chi si siede appunto lui lancia l'esca e dopodiché nulla di nuovo perché era quello che si stava facendo e che è stato interrotto il 7 ottobre non vorrei che queste parole producessero l'effetto contrario cioè che esacerbassero gli animi perché era proprio questa posizione che ha scatenato l'attacco di Hamas del 7 ottobre e io mi aspetto una reazione prima dalla parte dei terroristi che da quelli che si siedono al tavolo quindi parole importanti ma anche molto pericolose Fabio e quindi l'argomento contrario che uno dovrebbe tacere e assistere all'evolvere degli eventi no no non voglio dire quello però ponderare le parole ponderare qui voglio dire i grandi leader sono quelli che sanno unire un interesse politico della propria parte e questo è stato delineato Biden ha un interesse diciamo essere eletto e quindi a non irritare troppo l'elettorato progressista e filo palestinese che è presente e dicevo quelli che sanno unire un interesse privato ad un interesse generale questa è una mossa importante sapevamo che la diplomazia americana ci stava lavorando ovviamente il punto di approdo di questo nuovo scenario che è stato delineato difficile sicuramente è un cambio drastico di entrambe le leadership palestinese e israeliana forse bisognerebbe trovare una leadership palestinese perché il problema è che Hamas ma anche su questo si sta lavorando allora forse rettifico si stava lavorando a livello diplomatico bene era il caso di dirlo pubblicamente allora potrebbe essere l'ennesima gap è un grande pressing è un grande pressing ci dobbiamo fidare Maurizio Cheprara siccome c'è ancora qualche istante che pensi di questa università e non solo l'ondata di antisemitismo preoccupante preoccupante perché intanto nelle università forse le firme hanno qualche numero consistente ma le manifestazioni mi sembrano cose piccole che bloccano invece incontri che in un paese democratico devono svolgersi in piena sicurezza e tranquillità preoccupante perché in Italia non si è capito il trauma subito da Israele e dal mondo ebraico il 7 ottobre non si è capito l'importanza di salvaguardare la serenità del popolo israeliano nelle proprie prospettive di vita nel non sentirsi minacciati di rivedere quello che accadde con la Shoah con il massacro di quasi 6 milioni di persone di religione israelitica e è un le università italiane hanno conosciuto momenti di di follie di ubriacature questo dovrebbe trovare maggiori antidoti questo è purtroppo debole però c'è il giudizio sulla reazione israeliana che è sicuramente come dire sopra le righe ormai riconosciuto salvo che in Israele da Netanyahu da quasi tutto il mondo non aiuta non aiuta il problema è la mancanza di prospettiva e la mancanza di strategia per il dopo qui forse non si è capito che quando si comincia una guerra la gente muore così succede nelle guerre non sono come ce le immaginiamo da noi le operazioni chirurgiche le operazioni chirurgiche sono una parte e sicuramente Israele sta usando la mano pesante a Gaza non c'è dubbio è anche vero che le cifre dei 31.000 rotti e morti vengono dal ministero della propaganda di Hamas e non hanno necessariamente riscontro in passato Israele ha corretto da 1.400 a 1.200 i morti subiti il 7 ottobre non ho visto correzioni di questo genere da parte dei palestinesi sicuramente c'è una situazione difficile a Gaza sicuramente bisogna comprendere che quando ti ammazzano moglie e figli la prima cosa che ti preoccupa è impedire che questo accada di nuovo il resto viene dopo da un certo punto di vista non si capisce anche perché per combattere una guerra nella quale i terroristi di Hamas si nascondono tra la popolazione civile Israele dovrebbe aumentare il numero dei propri militari morti è una situazione veramente complicata dobbiamo tenerne conto perché non so se noi saremmo così delicati se ci fosse successo la stessa cosa nel nostro paese si parla ancora della strage di Piazza Fontana che ebbe 17 morti ed era il 69 quando ti fanno 1.200 morti probabilmente non è che proprio ti viene da stare calmo e tranquillo una battuta sul tema delle università che è assolutamente inaccettabile che le università pubbliche italiane siano in mano siano ormai ostaggio di dei collettivi che sono violenti l'altro giorno hanno addirittura minacciato e sfondato una porta all'università di Genova contro il Rettore ed è inaccettabile che ci siano delle persone che per il semplice fatto per il solo fatto di essere ebrei cito il caso di David Parenza cito il caso del direttore della Repubblica Molinari non possano parlare in un'università pubblica quando in realtà in questi mesi da 7 ottobre in avanti ci sono state decine di manifestazioni a tutti gli effetti giustificazionisti nei confronti di Hamas con due pesi e due misure che preoccupano perché c'è un tema di libertà di parole anche manifestazioni per la pace questo è vero però c'è anche un tema di libertà di parole e di libertà di espressione che non viene garantita a chi ha delle posizioni legittime che possono essere più o meno condivise ma comunque legittime nei confronti di Israele e questo è un tema di democrazia per cui dobbiamo tutti insieme cercare di fare in modo che questi collettivi che sono delle frange anche violente vengano marginalizzate e si dia spazio al dibattito mi rendo conto di aver aperto il vaso di Pandora oltre il tempo massimo vi chiedo scusa se non vi faccio girare ma il mio tempo è finito adesso c'è coffee break con Andrea Pancani grazie ai miei ospiti per il dibattito di oggi l'appuntamento con l'omnibus come sempre domani mattina alle 8 grazie e buon proseguimento di giornata